Ripercorrere i passaggi che hanno portato all'Unità d'Italia, evidenziando il protagonismo lucano, ma anche rafforzare l'identità unitaria di ogni singolo cittadino attraverso la rievocazione storica e culturale. Sono gli obiettivi del Comitato per il coordinamento delle celebrazioni per il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, che ha in calendario una serie di iniziative a partire dal mese di agosto e fino alla fine del 2011. Vincenzo Folino ne è il presidente. Nasce con una legge regionale che lo istituisce, il Comitato ha semplicemente il convito di coordinare, di stimolare, di raccogliere il protagonismo in particolare dei comuni, dove in occasione dell'Unità d'Italia, 150 anni fa, ci sono stati eventi significativi, cioè Montemuro che è la patria di Giacinto Albini, Moliterno che è la patria di La Cioppe e di Petruccia della Gattina, Corletto, patria di La Cava dove partirono il 16 agosto 1860, e Potenza dove il 18 agosto la città insorse e cacciò per prima i borboni. L'intento di questo Comitato è quello di raccordare un po' il protagonismo dei comuni, delle associazioni e stimolare anche un protagonismo degli studenti di ogni ordine e grado, perché proprio ai giovani, ai ragazzi bisogna far conoscere sempre di più il valore, l'importanza di quegli accadimenti che hanno fatto l'Unità d'Italia. Bisogna anche riflettere su questi 150 anni, che cosa hanno significato per l'istruzione, per la sanità, per le infrastrutture, rimane aperta una grande questione del divario del Paese tra il Nord e il Sud, noi pensiamo, io sono tra quelli che pensano che il Sud non deve mai più pensarsi come un Nord mancato, il Sud ha le sue risorse, le sue potenzialità, in particolare la sua storia, la sua cultura, le sue risorse umane e deve saper valorizzare tutto ciò. Quindi una celebrazione del 150esimo che non è solo celebrazione, ma è anche capacità di attualizzare e di vivere il Paese e l'Italia.